Amici sportivi di Sky Sport HD, ma che stati siamo ritornati con il grande volley, si riprende con la sportiva Monticelli impegnata nel campionato di seconda divisione, esordio posticipato dopo la prima partita mandata che è stata rimandata a causa del testo di Haulin, eccoci pronti, l'abito ci ha fatto spostare, Pignolo, vabbè, la facciamo lo stesso, ecco, coach Simone che dà le ultime indicazioni alle ragazze per questo esordio, cariche ragazze, non è facile esordire così, dopo aver sentato la prima giornata si butta così in partita, eccoci pronte, vediamo il sestetto base che parte, la sportiva, la sportiva si inizia, andiamo il sestetto, ok, ciao, ti vedranno in tutto il mondo, eh sì eh, a servizio della sportiva con Federica, vediamo il sestetto, il sestetto al centro, la Monica, la Rimo, poi la Sara e la Giorgia e le nuove ragazze, la Beatrice Libera, lei si avvolta a schiacciare forte, ecco Simone che dà le ultime indicazioni alla Federica, c'è un po' di casino qua, ancheci pronti, ok, potremmo partire a servizio, a servizio della Federica, dai ragazze, diamo servizio, lei alla Fede, dai che lei, va beh, è fuori, va beh, è il punto nostro, molto bene, iniziamo così, tranquilla, ancora Federica a servizio, ancora Federica a servizio, la Rimo, ottimo, uh, schiacciatone della Sara, ma la riescono a recuperare, non possono schiacciare, la Beatrice è buona, dai Fede, dai Giorgia, brava Alessia, dai 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 dai, la messa, uh, Sara, boom boom, Sara, la messa, siamo, 2-0, Simone dà le indicazioni, vorrebbe battere lui, quasi quasi, Federica ancora a servizio, 2-0, ottimo, brava, brava Alessia, e ancora Sara, pallonetto, la prendono, brava Alessia, brava Joe, oh, bello il muro, dai 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 dai, e ancora Sara, la mette, uh, un punto molto combattuto, brava Beatrice, a Giorgia, è bello, 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 la prendiamo, ah, casca, peccato, punto per la Brusco, 2-1, però un buon inizio dalle ragazze, vedo concentrate, a servizio del Brusco, fuori, 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 stop, 3-1, a servizio della Sara, vai Sara, brava Rimo, uh, la messa al muro della Rimo, siamo partite molto bene, 4-1, serve questo set per sciogliersi un attimino, per, c'era un attimino di tensione, perché lì sul campionato non arrivava, abbiamo dovuto postici per la prima giornata, come ho già detto, causa Halloween, è partita col Pontoglio che verrà recuperata il 30 novembre in quel di Monticelli, poi non va, non va, non passa, non passa, non passa, andiamo su 5-1, la Sara, ancora la Sara a servizio, c'è il centro Rimo, la mette, la mette giù la Rimo, un inizio incoraggiante, una ragazza della sportiva, costringe il coach del Brusco a chiamarlo il timeout, ecco, Simone che, da qualche consiglio, ma alla fine è per adesso, andiamo bene, vediamo, termina il time out la squadra dentro il campo sul punteggio di 6 a 1 per la sportiva buona partenza a servizio la Sara parla Beatrice ok rimo rimo muro rimo era un po' tisa la ritmo in questi giorni per l'inizio del campionato ma adesso sembra che si sia sciolta la partita bene un paio di muri fatti bene l'aspettiamo al servizio ah l'ha presa devastante l'Alessia volta appena si volta la schiaccia giù ancora sale servizio è là fuori 8 a 2 non va 9 a 2 ecco finalmente la Rimo al servizio rientra la Monica si era un po' appigionata in panchina vediamo la Rimo sempre un po' tesa quando c'è da battere vediamo se si è sciolta anche in battuta ah peccato va bene è lo stesso dai Rimo c'è da scaldare un attimino il braccio prendere misure di questa palestra che è un attimino difficile con un terreno di gioco vecchia maniera vecchio stile stile palestra delle scuole fuori 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 e c'è la traversa della porticina e qui siamo 10 a 3 un bel margine di vantaggio questo primo set importante portarlo subito a casa un attimino per sciogliersi eccola Joe bella brava Joe hai fede toccato il nastro brava Sara l'ha presa dai Beatrice ok cos'è? toccata? ah ok va bene brava la ripresa peccato Beatrice potevamo rigiocarla ah usciva 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 brava Sara brava brava Beatrice hai giù della seconda fuori fuori peccato un po' lunga attenzione 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 10 a 5 sempre un vantaggio rassicurante però non bisogna un attimino abbassare la guardia è facile deconcentrarsi quando vedi che il set sta fidando via liscio brava Beatrice dai una veloce eeeh la presa la presa Monica ancora Alessia fuori 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 bella scherciata per la numero due del erbusco ho sparata bene sarà la messa le nostre bocche di fuoco stanno andando a grande rientra la rima in prima esce la Beatrice a servizio alla Monica guardiamo se c'è ancora il bracchino dell'anno scorso vedo che c'è un po' di scotch sul braccio sta prendendo le misure del campo punteggio 12 a 6 Monica stai calma a a a a a a a a c c dai 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 sarà bella bella 1 3 1 C'è che non riescono a schiacciarla Attenzione Giorgia, bene, dai una veloce al centro Sì, Rimo, Rimo, metti da giù Poi l'ha messa, l'ha messa, l'abbiamo chiamata E la Rimo l'ha messa Ottimo, via dalla Rimo Poi di schiacciate Due muri, molto bene Siamo sul 13-16 Ancora a servizio la Monica Ibraimovic Monica Speriamo che non si faccia male come lui Ah, buona È uscita Fuori, fuori, fuori 14-7, fuori di poco Ritorna in battuta Da Federnica Bosley La nostra Alzatrice Ma è veterana della squadra Ok, non possono schiacciare Ah, invece sì, l'ha messa L'ha messa, brava La numero due È quella che ci sta dando Più grattacato È Sara Bella Dai, Valessia Dai che bella Dai Gio Ale Rete 15-8 Teniamo 7 punti di vantaggio Servizio la Sara Bello Bello il muro Bello Bello Rimo Rimo E Alessia Qui tra Giorgio e Alessia Non si capisce più niente questa squadra Vai Sara Invasione E' appunto per noi Molto bene Molto bene Siamo sul 17-8 Secondo time out Chiesto dal Bosco Allora, vamos go Allora, lasciamo sono a servizio la Sara 17-8 18-8 non passa non passa non passa abitro mamma mia Alessia la mette giù 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 la mette «Cà» Gomez Gomez Aiuto la mette giù punto gara per la sportiva 21-8 1 2 3 2 2 3 5 5 5 6 7 6 7 7 7 Punteggio 22-8 Primo set abbastanza di scioltezza Brava le ragazze Brava Alessia L'ha toccato Andiamo sul 23-8 23-8 Molto bene Dopo circa 20 minuti di gioco Stiamo andando Buona Sara Uh, Moruzzone ancora dalla Rimo Uh, set point Qui Erbus con la sportiva Si accinge a vincere il primo set Di questo avvio di campionato per loro Set point Sarà servizio E' un altro 1 Della Rimo E andiamo sul 25 25-8 Primo set per la sportiva A voi studio Amici, scai spaccati 1-0 per il musco Ah, c'era il muro Era un po' a rischio 2-0 Dai ragazze Non facciamoci prendere Dai Dai Sara Buona Buona, buona, buona Peccato Inizio Scoppiettata Noi siamo entrati Un attimino Un po' indecisa Bisogna un attimino Fermare questo Questo primo lungo Dell'erbusco Ah, brava Oh, peccato 4-0 Inizio così Non ci voleva Invasione Menomale 4-1 Interrompiamo questo inizio Dai, dai, dai E' sempre difficile Il secondo set è sempre complicato Dopo che hai vinto facile Il primo Non è facile Ma non è la giusta concentrazione Poi ci sono sempre Gli avversari Che hanno voglia Di recuperare Bravo, vabbè, è felice Bravo, Joe Dai, Joe L'è giù? Sì Bravo, Salo Dai, 4-2 Fuori Ah, toccata Ha visto un tocco l'arbitro Fuori Brava, Sara Brava, Sara 5-3 Dai, 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 dai Dobbiamo starle vicino E' il murone della Rimo La mia ammessa La mia ammessa 5-4 Dai, siamo andate sotto Dai Meno uno No, ma Rimo, 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 Rimo Dai, Sara Dai, Sara A 5 pari Dai, 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 dai Bella, bella Provaci La tocco piano Ha detto E facciamo un bel murone Toccata Brava, Sara Dai, Alessia Dai, Alessia Devastiamo Alessia Volta 6-5 6-5 6-4 La sportiva Volley Fuori di poco Sei pari Dai Va bene così Dai E' ascoltato Che il secondo Senza Sarebbe stato più Equilibrato Non poteva Ah, peccato La palla Una traiettoria strana Che inganna la Beatrice Fuori Uh, fuori lunga 7 pari Dai, Rimo Rientra la Monica Rientra Ibraivus Monica Guardiamola, Rimo Con calma Rimo Se vuoi l'MVP Della partita Devi metterla No, Rimo Non vuoi l'MVP Della partita Dai, Rimo Oh, è passata 9-7 Uh, peccato Ma questo servizio Che scende Peccato Time out Time out Che è stato da coach Simone Tinti quella che ci stai Faccio Chaci L'NPC Tinti 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 Grazie a tutti! 12-8 Grazie a tutti! 13-9 Servizio dell'Alessio Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti E' fuori, 21 pari, esce, entra la, cambio servizio, esce la Rimo un attimino per difettare Entra la Alessia Andiamo Ehi, attenzione, l'abbiamo rischiato, brava Alessia Più piano, più piano Altro time out chiesto dall'Arbusco Il risultato 22-21 per la sportiva Grazie a tutti peccato dai la prendiamo dai Alessia dai Giorgia dai puoi metterla tocca no non tocca il soffitto dai dai rigiochiamola dai Alessia Alessia mamma mia peccato 22 pari uuuh battuta insidiosa dai Alessia bella bella uuuh dai prossimo giro c'è il cambio rientra la Rimo in prima linea con Alessia dai Giorgio calma calma Giorgio dai dai brava brava Deppi bravissima uuuh che volo che ha fatto grande ha passato peccato 23 pari dai 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 attenzione la due a servizio no la formazione da Alessia no peccato ha cercato un po' troppo sulla banda dai 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 osti set point per il gusto peccato va bene dai 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 fuori 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 uuh 24 pari dai ragazze a servizio che va a servizio Alessia dai tranquilla bella attenzione no se faceva appunto questo no perché così c'è lì la Sara dai 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 25 24 dai si può dire in tv si si può dire c'è il cambio rientra la Rimo un po' secondo Alessia Monica a servizio 25 pari grande tensione questo set dai Monica tranquilla bella Monica dai dai che non schiacciano dai che non schiacciano rigiochiamola osti Monica dai Sara bene dai che va dai 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 26-25 set point della sportiva dai dai Monica tranquilla dai un set veramente combattito vediamo se riusciamo a portarselo a casa con i denti mia Monica tranquilla non è messa tranquilli noi di Sky sporca ma che sta lì ma siamo anche un po' tifosi è fuori 27-25 27-25 set soffertissimo 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 amici di Sky che spacca qui ma che sta qui eccoci al terzo set l'erbusco la sportiva dopo un secondo set tirattissimo la sportiva è uscita vince 27-25 2-0 adesso c'è il terzo set decisivo per l'erbusco siamo partiti bene a servizio a Federica oh molto bene 2-0 bisogna partire bene come non abbiamo fatto non l'abbiamo fatto nel secondo set ma è stato normale perché dopo aver avuto il primo facile siamo un attimino disunite però siamo riusciti a tenere botta e portarsi a casa il secondo set adesso siamo ripartite molto bene con il primo set bravo Alessia dai Sara oh la messa non lo prende 3-0 3-1 ho visto ancora la Federica ah peccato in rete 3-1 dai la Monica è pronta a rientrare è giù no peccato ho troppo chiuso il servizio oh da che l'abbiamo presa dai rimorcio è libero bella bella bravo Gio Sara bella siamo 4-2 sarà a servizio sarà a servizio fuori no ah c'è stato un tocco peccato 4-3 coccata eh rientra la Monica dai Rimo Rimo stai calmo servizio se vuoi l'NVP della partita devi farlo servizio c'è 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 brava Monica l'han presa brava Alessia l'ha messo 6-3 il nostro bomber brava Rimo loggio eeeh dai e si daria Alla Gio, 7 a 4. Let's say things! Let's play! FIGHT! brava cos'era quello lì? ah troppo sotto no bell'ho ricchiauto 3 1 1 2 3 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il gioco tenta! No! Pallonettino dal piffero! 9-8! Peccato! È stato proprio un colpo mistico! Mistico! Monica l'ha presa con le unghie! 10-9! Altro set equilibratissimo! Vai Monica! 10-9! 10-9! 10-9! 10-9! 10-9! 10-9! 10-9! 10-10! 10-9! 11-9! e passa avanti merdisco per la prima volta in questo set peccato è stata un'incomprensione sottoveduta tra l'arimo e la feda occhio andiamo a riordinare le idee è stato un'incomprensione brava Remo 12 pari beh cos'era? ha danzato sul nastro bella grazie 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 ah peccato niente il set è un po' così un altro time out il set è un po' così il set è un po' così ci mancava che prendessero anche questa dai 20 e 17 dai meno 3 non è un po' così no 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 Monica la top piano 20 e 18 Meno 2 Set veramente duro Meggio La 2 picchia 21 e 18 Dai 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 Non passa Si passa Era sotto di un centimetro Era una fregate Ale Ale Brava Meno 1 dai dai ragazze Dai Alessia Dai che non posso schiacciare Attenzione Dai Monica Usteria La numero 2 Bisogna marcarla Oh le Dai Dai Monica Tranquilla Ma che mi si è attirato Ma Monica Calma 22 pari Secondo time out Anche per L'erbusco Oh 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 Si rientra il campo In questo Terzo set Infinito 22 pari Al servizio della sportiva Monica Non è Monica Spavento Dai Dai Sara Dai che va 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 Dai Più uno Dai 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 ragazze Dai Grande Monica Calma Più uno per noi Bella Brava brava Monica Dai Rimo Dai No Attenzione Dai 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 Schiavi Brava Monica Dai Sara 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 Dai che lo prendiamo Brava Alessia Dai Sara Dai Toccane Dai Uh Brava 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 Fede Uh Punto interminabile Dalla seconda Ma Incredibile La numero due Riesce a passare dappertutto 23 pari Alta tensione Dai 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 Brava Alessia No Oh non va Non va Match point per noi Dai ragazze Un set Un set interminabile Una palla per vincere questo primo incontro della stagione Sarà un bel viatico Dai Dai che l'abbiamo presa Dai Dai Rimo Rimo Dai Dai che la prendiamo Brava Alessia Dai È vita L'abbiamo vinta È incredibile È la partita Stretta di mano Per le giocatrici Ho L'abbiamo vinta E la partita Quella L'abbiamo vinta L'abbiamo vinta L'abbiamo vinta L'abbiamo vinta L'abbiamo vinta L'abbiamo vinta Grazie a tutti.